C'era una coppia, una lezionata manuale, una lezionata primordiale, a costo zero. E' bello. Che carina. Sì, sì. Ok. 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 Grazie. Oh, costa. Non è costa crociera questa. Eccolo lì. Ecco, guardate, questa è la posizione migliore per fare le foto, da qui. Ah, della vela. Bellissimo. Conosciuta come la vela. Questi sono appunto i canali che dicevo prima. Sono delle barchette anche che girano. E poi questo è tutto il complesso albergiero, quindi da qui. Questo davanti e a sinistra c'era un altro. Quindi questa è tutta la spiaggia privata dell'hotel, vedete? Ah. E mentre invece il Burjallarab, che sta su un'isola staccata, però c'è una strada, ha la spiaggia da questo lato. Sì, verso l'interno. Qui, qui, qui viene meglio. Che sta lì? Abbastanza, sì. Che non è? No. Allenton ha fatto tutto questo... Loro sono lì, io non sono così. No, ha fatto tutto questo sistema di isole. Cosa succede? Che alla fine hanno chiuso tutto. Abbiamo un lato. Cioè, ma l'acqua non c'è anche trasparente. No, poi io, allora se vai sulla coppa... Eh, infatti io vorrei domani, no? C'è la schiaggia più bella. Sì. Ma hai una... Tu vuoi andare il mattino a fintare? Sì, sì, sì. Quindi io possiamo andare così con... Ci sono le doci, i bagni, tutto il pubblico. E poi lì mi dai riferimenti. Sì, ma dai... Sì, sì, stai bene. 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 No, stai stai. Sì, stai bene. Ah? Ah, i brader ti danno le giri. Eh. I ristorantini e i bar. Eh, eh. Io lo farei domani, è giornata l'ultimo giorno. Giornata di mare. Siamo ultimattina al mall. Non mi trovo come capoyle. Volevo mettere una foto, per la faccia. Dai! Grazie, dai. Siamo tra i la hub. Bene, bene, viene, bene! La casa è separata, lui sta al mare per su sch exception. Volete fare un giretto? Sì. qualcosa, volete comprare qualcosa?